E Forza Italia! Cari amici e cari amiche, per la prima volta a Bagheria Forza Italia terrà un congresso nel corso del quale si formerà il coordinamento cittadino del partito che diventerà punto di riferimento della comunità bagherese. Vi aspettiamo domenica 29 novembre la mattina alle 10.30 al Cinema Capital insieme per Bagheria con Forza Italia. Grazie a tutti!